Nuovo riconoscimento per la fattoria didattica IUNCEUM, realizzata grazie alla caparbietà dei soci dell'Associazione La Goccia, che attraverso l'impegno costante nei confronti di persone diversamente abili, sono riusciti a costruire una realtà punto di eccellenza per l'intera regione. Nella fattoria si coltivano frutta ed ortaggi, si allevano animali, il tutto seguendo i ritmi della natura. Ma non solo, i benefici ottenuti da chi ci lavora sono enormi, con progressi sia dal punto di vista fisico che intellettivo, favorendone l'integrazione sociale a tutti i livelli. A livello nazionale esistono tantissime realtà che coniugano l'agricoltura con il mondo dei servizi, della formazione e dell'educazione e rappresentano una scommessa. Io, avendo anche l'onore di poter rappresentare il Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale, ho un osservatorio privilegiato. Ed esiste una varietà, una ricchezza all'interno dei territori di aziende agricole ma anche cooperative sociali e soprattutto anche quelle reti informali dei territori che si mettono in discussione e rappresentano veramente il volano di una nuova economia. Io la chiamo economia sociale, un'economia che sa rispondere ai bisogni della comunità, che sa creare in questo caso generi alimentari, come quello che mi è stato appena consegnato da Domenico, che è senza dubbio l'esempio dell'agricoltura sociale e che ringrazio perché dietro questo pane c'è tutto il valore di una storia, di un territorio. Parla di professionalità, parla di sapori, parla di profumi ma parla di Domenico e parla di tutti gli altri ragazzi che all'interno di questo spazio hanno trovato non solo uno spazio di vita ma uno spazio di dignità dove il lavoro diventa l'elemento per costruire una società più giusta e coese e posso dire che rappresenta l'agricoltura sociale una scommessa per l'Italia intera. Il forum nazionale dell'agricoltura sociale ha scelto la Calabria e ha scelto la nostra fattoria per parlare appunto di questa tematica, per noi è un momento di orgoglio sicuramente, ma anche occasione per mettere al centro della discussione l'importanza di quanto possa essere determinante fare rete, e quindi servizi sociali, sanità e quindi politica del lavoro, agricoltura, perché si raggiunga un livello ottimale dal punto di vista di quelle che sono poi le politiche di inserimento e soprattutto inclusione sociale e lavorativa per le persone più disagiate e comunque che hanno difficoltà.